Si chiama Fuligine, è il residuo della legna che si deposita nelle canne fumarie. Coraggio, amici cari! Liberate lo spazio davanti a voi in modo da potervi muovere. Perché questi grossi colibri non ci lasciano passare? Lambert si svegliò di soprassalto. Aveva udito qualcosa di terribile. E vide una minacciosa, minacciosissima sagoma. Un lupo affamato aveva trovato il grigi. Lambert era pietrificato. Per inciso, non preoccupatevi per quel lupo affamato. Sei aggrappato a un arbusto e non morirà di fame, perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno.